Benvenuti ragazzi, sono MarioA96 e benvenuti in questissimo video, raga, altro video, commento delle gare di ciclocross questa miniserie, anzi questa serie vi sto portando qui su youtube, quindi un bel like subito, iscrivetevi al canale se non si vengono iscritti. Ciao ragazzi, raga, e oggi siamo all'All Out, una gara clamorosa, come un po' tutte le gare comunque di ciclocross e di questa serie vi sto portando qui su youtube, comunque partiamo dalla gara maschile, raga, e i tre tenori del ciclocross, Mattia Van Der Poel, Van Aert e Thomas Pitcock, ci fanno anche oggi emozionare e infatti arriva la vittoria di Van Aert in volata su Van Der Poel E terzo, Pitcock, una gara di Lone Out era, raga, spettacolare, contraddistinta dal fango, dalla pioggia e da una parte che c'erano alcune, anzi, molte gobbette ed è proprio questa qui che vi ho messo come immagine del video, quindi un bel like mi raccomando, iscrivetevi al canale, raga, per tanti altri video, commento, E per le prossime gare di ciclocross che vi porterò sempre il video, commento, e poi ci sarà anche la gara femminile a vincere, anzi, a quasi dominare la gara Shirin Van Aert, prima, poi c'è stata la Schreiber, seconda e terza backer Quindi, raga, per questo video, può essere tutto, mi raccomando, ditemi sotto nei commenti, se vi piace il ciclocross, se lo seguite, se vi piace il ciclismo in generale, vi porterò tantissimi nuovi video, come vi ho detto anche prima Quindi ora, nel conteggio delle vittorie, siamo a 4-2, 4 vittorie per Wut e Van Aert e 2 vittorie per VDP Quindi, da mangiare tutto, bella ragazzi